Salve, buongiorno, sono Giovanni Falcone, amministratore di Alfa Recupero Crediti, società leader nel settore del recupero e gestione del credito da oltre 32 anni, specializzata da più di 15 anni nel recupero crediti in fase stragiudiziale per gli enti pubblici e enti comunali. Oggi siamo qui a questa magnifica giornata organizzata dal magazine Stop Secret con argomenti a dire vero interessanti perché ci mette ormai a confronto su molte tematiche riguardanti la tutela e la gestione del credito nonché delle informazioni commerciali. Grazie a tutti.